Messaggi in codice, un giro d'affari da 100.000 euro al mese, incontri con i clienti anche al supermercato e durante il lockdown. Sono alcuni dettagli emersi nell'ambito dell'inchiesta Chef Cracco, coordinata dalla DDA e delegata alla squadra mobile di Salerno, indagate 45 persone, tra loro tre donne ritenute tutte responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, disposto il carcere per 38 indagati, mentre sette sono stati posti ai domiciliari. Durante le perquisizioni gli agenti oltre alla droga hanno trovato anche una pistola a tamburo e 700.000 euro in contanti per gli inquirenti frutto dello spaccio. Diverse le reazioni dal mondo politico, soddisfazione dal ministro dell'interno Luciana Lamorgese per cinque operazioni della polizia in tutta Italia che sottolineano la qualità e la professionalità di tutto il personale delle forze dell'ordine. Anche il sottosegretario alla difesa Angelo Tofalo si complimenta con il questore di Salerno Ficarra. Si conferma l'attenzione per il territorio per garantire la sicurezza dei nostri concittadini, dice. Avanti tutta con la lotta ai venditori di morte, chi osa il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa che si dice vicino alle forze dell'ordine che in questo durissimo periodo di emergenza sanitaria continuano a combattere la criminalità organizzata. Gli fa ecco l'onorevole deputato di Forza Italia Gigi Casciello.